Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del Tg6. Iniziamo parlando di sanità in apertura. Le risorse della sanità stanno andando tutte sul comprensorio di Chieti Pescara. E alle cliniche private è netta la denuncia dell'ex presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi, nonché ex commissario straordinario alla sanità. Vediamo. Ancora polemiche sul piano sanitario regionale, i cui contorni sono piuttosto fuscati. Intervistato dal Ficcanaso, l'ex presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi, anche commissario straordinario della sanità, ha tracciato le differenze tra il piano di riordino proposto dal suo governo e quello attuale. Non era necessario ridurre e eliminare dei punti nascita, perché c'era l'equilibrio economico. Quindi noi abbiamo creato un sistema che si reggeva con 16 ospedali pubblici, 9 privati, nel passato ne erano 21 gli ospedali pubblici, ed era in equilibrio e garantiva un miglioramento dei livelli senza assistenza. Ma è una cosa certa, gli investimenti stanno andando verso la sanità costiera. Il territorio, diciamo così, pescaro-chietino, che si prevede ormai palese, prima era stato dissimulato, nascosto, che ci sarà l'unico ospedale di secondo livello e questo significherà i maggiori investimenti in quel territorio, per quella offerta sanitaria e minori inevitabilmente per quanto riguarda il capoluogo, per quanto riguarda Teramo e gli altri centri ospedalieri. E questo perché le risorse sono sempre le stesse, non è che sono moltiplicabili. E quindi se si spende di più di una parte, si deve spendere necessariamente di meno di un'altra. Questo però, tra l'altro, è inspiegabile perché alcune scelte non sono più così necessarie come erano nel passato quando dovevamo raggiungere l'equilibrio dei conti, che tra l'altro è una riduzione che è vero solo nel pubblico. Non vedono il privato. Invece il privato va a gonfie vele. La sanità privata è stata una delle questioni che in Abruzzo ha determinato il dissesto, non solo dei nostri conti, ma anche dei nostri livelli essenziali d'assistenza. Con la cura a cui noi la sottoponemmo, si fecero i contratti per la prima volta, si misero i tetti di spesa e si ridusse nel tempo di 80 milioni di euro l'anno quello che era il badge destinato alle cliniche private. I primi atti di questo governo sono stati l'aumento del badge nei confronti delle cliniche private, l'applicazione di tariffe massime per la psicoriabilitazione, che in Abruzzo è totalmente appaltata ai privati, quindi con un aumento anch'esso di spesa e di remunerazione da parte dei privati, e il tentativo, peraltro maldestro e non riuscito, di eliminare una serie di sanzioni nei confronti di quelle cliniche che producessero di più di quanto è previsto del budget fissato e dei detti di spesa. Trasformare l'ACA da società privata pubblica e uscire dalle logiche che hanno causato tanti danni all'Abruzzo in passato. A intervenire sulla questione del cambio al vertice della società consortile acquedottistica, acquedottistica c'è anche il rappresentante di rifondazione Maurizio Acerbo. Il sindaco di Francavilla chiede un cambio al vertice dell'ACA al termine del mandato dell'attuale presidente. Si parla di quello che è stato da un lato un risanamento di una delle voci più complicate delle polemiche che ci sono state in Abruzzo. Qual è il quadro secondo Acerbo? Il quadro dell'ACA è stato in mano al Partito Democratico e ai partiti che poi sono diventati il Partito Democratico per decenni. I risultati sono stati che facciamo il bagno in mezzo alle feci, che ci hanno fatto prima bere anche acqua contaminata dai rubinetti e che hanno fatto 120 milioni di debiti e quindi che questo partito riorganizzi tutti i suoi sindici per riconquistare l'ACA a me fa davvero lo dico schifo, si dovrebbero vergognare, si può discutere di cambiare l'attuale amministratore delegato, ci mancherebbe, ma che si mettano insieme, compreso il sindaco di Francavilla a Pescara, tra le firme c'è la sindaca di Bolognano il cui marito è stato l'ultimo presidente PD dell'ACA arrestato per tangenti, ma di che cosa parliamo? Ma non si vergognano, bisogna trasformare l'ACA da SPA in azienda di diritto pubblico in cui vigano tutte le regole per quanto riguarda la gestione dell'azienda, di un'azienda pubblica. Ed ora cambiamo decisamente pagina, si sono celebrati questa mattina nella cattedrale di San Cetteo a Pescara i funerali di Pasquale Paciglio, il direttore di Rete 8 che è morto ieri all'età di 67 anni, stroncato da una grave malattia. Tante le personalità che sono intervenute alle sequie per l'ultimo saluto ad uno dei giornalisti che ha fatto la storia dell'emittenza privata abruzzese. Solenne è partecipato l'ultimo saluto al direttore Pasquale Paciglio. 40 anni di giornalismo che si palesano quando si vedono susseguirsi due generazioni di politica nella cattedrale di San Cetteo a Pescara. Vincenzo Del Colle, presidente della regione Abruzzo dal 1992 al 1995, di democrazia cristiana. Per il governo D'Alfonso a presenziare ci sono Mario Mazzocca, sottosegretario alla presidenza, e Donato Di Matteo, assessore in carica, l'onorevole Gianni Melilla di Selle, che già aveva espresso il suo cordoglio appena presa la notizia, e ancora il senatore di Forza Italia Antonio Orazzi, il deputato Gianluca Fusilli, il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, quello di Francavilla Antonio Luciani, l'ex presidente della provincia di Pescara Guerino Testa, e poi solennità anche da parte delle forze dell'ordine con il comandante della polizia municipale Carlo Maggitti e i suoi uomini che si fanno trovare ad accoglierlo fuori dalla chiesa. Arriva il questore di Pescara Paolo Passamonti, la capitaneria di Porto, ci sono i presidenti delle camere di commercio di Pescara e Chieti, i rappresentanti di categoria dell'area metropolitana. Il presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, non manca l'appuntamento e segue la funzione, è defilato in fondo alla cattedrale. Arrivano anche i veterani del giornalismo, Enrico Rocchi, che proprio a Telemare, 40 anni fa, aveva conosciuto Pasquale Pacilio, Giulio Borrelli, ex direttore del Tg1, siede tra i banchi e ancora i colleghi della carta stampata sono tutti presenti, quelli delle televisioni locali che mostrano la propria vicinanza. La sua redazione è raccolta da un lato, accanto al banco della sua famiglia, sono tutti in piedi e si percepisce l'incredulità nei loro volti, tecnici e giornalisti. Sono i veterani a mostrare di più i segni del dolore, Paolo Castignani ha gli occhi pieni di lacrime e dolore, Marina Moretti mostra uno sguardo pieno di dolore, così come i settimi signori Berardinelli del comparto tecnico che con lui ha lavorato per tanti anni. Daniela Senepa, giornalista Rai che proprio con Pasquale Pacilio ha mosso i primi passi, entra nella cattedrale piangendo, scuote la testa incredula. Nel banco in prima fila ci sono la moglie Giulia e i tre figli. Marco e Silvia, i più piccoli, si tengono per mano e lui parla all'orecchio della sorella mentre la carezza. Un dolore composto che lascia però intravedere il desiderio di rendere omaggio ad un padre che l'Abruzzo intero ha conosciuto in 40 anni, che considerava familiare, tanto da farlo entrare nelle proprie case. Un giornalista che ha segnato un'epoca e al quale il presidente dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo dedica un ritratto immortale. La capacità di sapere interpretare i fatti complessi della società abruzzese perché poi lui è vissuto in un periodo in cui le trasformazioni sono state molto profonde di tipo economico, di tipo sociale, non ultima la vicenda della crisi che da vari anni e come dire in qualche modo fa scontare all'Abruzzo come del resto a tutta l'Italia i suoi effetti e lui è riuscito a raccontare questa complessità senza drammatizzazione, senza spettacolarizzazione, è riuscito a farla nella maniera giusta, nella maniera reale e questo, ripeto, è un grosso pregio se non il pregio con tutte le maiuscole per un giornalista. Sul set sul Gran Sasso di A un passo dal cielo, la fortunata fiction di Rai 1 con Terence Hill, hanno fatto irruzione gli uomini del Corpo Forestale dello Stato che hanno inscenato una singolare protesta contro l'accorpamento con l'arma dei carabinieri. Non è chiaro ancora come l'eventuale militarizzazione del Corpo Forestale dello Stato danneggerebbe la tutela dell'ambiente. Comunque un nutrito gruppo di rappresentanti sindacali del CFS ha protestato contro la militarizzazione ventilata dalla soppressione del Corpo da parte del Governo nel parcheggio di Fonte Cerreto, alla base della funivia del Gran Sasso. Di fatto con questo decreto sancisce il principio che il Corpo Forestale dello Stato e i forestali, uomini e donne, verranno militarizzati. Governo che ovviamente assolutamente in maniera inusuale e non consona non ha mai accettato nessun tipo di confronto, non ha mai accettato nessun tipo di critica rispetto a quello che potrebbe essere un provvedimento che inciderà negativamente sul futuro degli italiani, dell'ambiente e soprattutto sul futuro dei nostri figli, perché sicuramente questo accorpamento porterà un peggioramento di quelli che sono gli standard ambientali che noi oggi difendiamo e conosciamo. È in qualche modo oggetto di ricorso da parte del personale che non vuole essere militarizzato, quindi non è detto che poi questo decreto in qualche modo possa trovare effettivamente una sua collocazione finale. La manifestazione ha incassato anche il sostegno del CIULP, il sindacato italiano unitario dei lavoratori di polizia. In una nota il CIULP sostiene che il provvedimento di soppressione che il governo vorrebbe approvare, oltre che essere perfettamente inutile sul profilo economico, viola i principi fondamentali della Costituzione nella parte in cui vorrebbe la militarizzazione di uomini e donne della forestale, perfino in contrapposizione alle direttive della Corte europea dei diritti umani, che vorrebbero invece riconosciuto, anche alle forze armate, il diritto di associarsi in sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori in uniforme. A Giulianova sono iniziati i lavori previsti all'interno dei programmi urbani complessi per realizzare la palazzina ai parcheggi di via Bellini. Lo strumento tende alla riqualificazione urbana secondo una progettualità condivisa con l'amministrazione comunale. Ascoltiamo il sindaco Mastro Mauro. 18 alloggi a canone sostenibile. Era quello che avevamo annunciato alcuni anni fa nell'ambito dei piani urbani complessi per dare risposte a quella necessità, esigenza di tante giovani coppie, di tanti anziani che non hanno a disposizione risorse ma che hanno diritto ad avere un alloggio di qualità. Vedete, si stanno realizzando questi alloggi e rientrano in questo piano urbano complesso di rigenerazione di importo complessivo di 4.456.000 euro all'interno del quale oltre all'edilizia sociale che poi comprenderà anche la riqualificazione di 18 alloggi all'interno del centro rinascimentale Palazzo Massei, Palazzo Roscioli, comprende anche il completamento del Palazzo Cursal con la ristrutturazione, riqualificazione e rilancio della porzione sotterranea, del primo piano, della terrazza e della funzionalità dell'ascensore. Questo grazie al grande impegno dell'amministrazione comunale ma un plauso particolare va alla Giulianova Patrimonio, la società in house. In un anno questi alloggi saranno a disposizione di queste giovani coppie e degli anziani e sarà fatta una graduatoria naturalmente e queste 18 coppie potranno godere di questi alloggi. Dopo gli scherzi del maltempo sabato 6 agosto a Pescara si svolgerà la Notte Bianca dell'Adriatico dopo il rinvio appunto causato dalla forte pioggia dei giorni scorsi, confermato tutto il programma e annunciata una novità. A salire sul palco ci saranno i vincitori dell'ultimo festival di Sanremo, gli stadio, attese più di 200.000 presenze. Il rinvio della Notte Bianca si trasforma in una nuova festa, il 6 agosto ci sarà l'attesa a Notte Bianca dell'Adriatico, novità nel cartellone ci sarà il gruppo vincitore di Sanremo. Sì, ci sono alcune conferme e tante novità, conferme come Michele Placido che si esibirà nel piazza Le Laudi sulla Riviera Sud, Tonino Carotone allo Stadio del Mare Nave di Cascella e poi c'è questo grande new entry, il gruppo gli stadio che sono i vincitori del festival di Sanremo che si esibiranno nel palco principale dell'Arena del Mare alle 23.30 circa. Confermate tutte le altre location, confermato il Busker Festival, quindi ci saranno oltre 30 gruppi che animeranno tutta la serata, artisti di strada, street food, insomma abbiamo coinvolto anche altre zone della città come Piazza Salotto, Piazza Muzzi, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, Via Cesare Battisti e questo è un segnale importante perché è una notte davvero che accenderà la città non solo dal punto di vista del divertimento e dell'intrattenimento ma soprattutto per rilanciare la vocazione turistica anche in termini economici. Viste le presenze dell'anno scorso che sono state 200.000 quest'anno è una conferma, ma cosa ci si aspetta? Ci aspettiamo che le 200.000 persone aumentino ma soprattutto aumenti l'indotto legato a questa notte, l'anno scorso abbiamo avuto il 150% di aumento dei consumi, quest'anno insieme all'università faremo uno studio anche sulla capacità di questa notte di incidere sul PIL cittadino e questo è un dato davvero importante perché le manifestazioni poi creano economia e noi vogliamo fare uno studio approfondito per poi comunicarlo e capire come investire ancora meglio nei prossimi anni. Taglio del nastro ieri pomeriggio per la 31esima edizione di Mediterranea, quest'anno la mostra a mercato è iniziata con un gemellaggio culturale e commerciale con il Marocco, ieri sera anche una cena fusion con il vincitore di Masterchef Marocco. Come assaporare il gusto e ammirare i colori d'Abruzzo? La risposta è mediterranea. La mostra a mercato del lago alimentare abruzzese giunta alla 31esima edizione si conferma punto di riferimento per tutto il settore primario regionale. Nell'edizione 2016 però si è andati oltre i confini del territorio abruzzese e in ossequio al nome che richiama la matrice comune del mare Nostrum, ospiti della giornata inaugurale della mostra sono stati i rappresentanti delle istituzioni e degli importatori marocchini. Il paese nordafricano è tra i pochi, se non l'unico ad offrire in quella parte di mondo, condizioni economiche di sicurezza favorevoli a distaurare commerci con l'Italia e l'Abruzzo. C'è il primo distributore commerciale marocchino qui presente che incontreranno circa una venticinquina di aziende. Oggi e domani ci saranno circa una settantina di incontri per cui siamo soddisfatti perché molte aziende hanno richiesto questo paese che in questo momento, visto i parametri di sicurezza e di tranquillità, è ricercato dal punto di vista dell'esportazione italiana. Un gemellaggio assolutamente lungimirante con il Marocco, con la cucina di quel territorio, con i nostri prodotti che ben si coniugano con una serie di realtà italiane ed estere. Complimenti davvero alla Camera di Commercio e complimenti davvero ai nostri produttori, ai nostri imprenditori agricoli che sono divenuti sempre più protagonisti dell'economia regionale. Suoni del lavoro è un concerto all'alba che si terrà lunedì 1 agosto alle ore 6 alla Torre di Cerrano a Pineto. Iniziativa organizzata dalla Regione Abruzzo e dall'istituzione sinfonica abruzzese in collaborazione con l'Università di Teramo e l'area marina protetta Torre del Cerrano. Iniziativa definita esempio di sintesi delle eccellenze culturali e di quelle paesaggistiche della Regione. Come nasce questa iniziativa? È un'iniziativa che nasce direttamente in commissione. Quando abbiamo discusso lo scorso anno dei finanziamenti, in quel caso dell'istituto sinfonico abruzzese, ma generalmente alla cultura, abbiamo chiesto che coloro i quali ricevono anche un contributo da parte statale della Regione Abruzzo, rimettessero poi sul territorio anche qualche prestazione in maniera gratuita. Un evento in collaborazione tra gli altri con l'Università degli Studi di Teramo. Come sposa questa iniziativa all'Università? La sposa con entusiasmo. È un'iniziativa straordinaria non solo perché viene offerto un concerto dall'orchestra sinfonica abruzzese all'alba in uno scenario incantevole, ma anche perché è uno straordinario modo per valorizzare le risorse culturali di cui dispone la nostra Regione. In questo senso applauso al consigliere Monticelli che ha organizzato questa serie di concerti che ci consentirà, consentirà a tutti i partecipanti non solo di godere di un concerto assai bello, ma anche di riflettere sull'importanza che la formazione, in questo caso musicale, e soprattutto l'avere a disposizione una risorsa come l'orchestra sinfonica lo è per la nostra Regione, e cosa significa questo per tutto l'Abruzzo. In questa prossima occasione per l'istituzione sinfonica abruzzese cosa verrà proposto? Si tratterà del repertorio classico dell'orchestra in uno scenario meraviglioso. Siamo ben lieti come area marina protetta del Cerrano di continuare questa collaborazione con l'Università di Teramo sotto questo aspetto molto particolare. L'Università e l'area marina collaborano già da anni, sin dall'istituzione, quest'anno anche grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo e quindi dall'iniziativa del consigliere Monticelli avremo questo evento molto particolare e ci auguriamo che lo spettacolo sia strepitoso. Torniamo nell'Aquilano perché la fortunata rassegna confini di Sant'Eusagno Forconese si conclude questa sera con il gran finale. Con l'esibizione di Turi, uno dei più conosciuti rapper italiani assieme ad altri giovanissimi artisti del comprensorio si concluderà la tre giorni molto fortunata di confini torna l'arte a Sant'Eusagno Forconese. musica, teatro, laboratori, una a tre giorni nella splendida cornice del Castello del Borgo. Confini è una sfida degli organizzatori la voglia di mantenere lo sguardo sullo stato dell'arte sulla creatività pensata come luogo aperto in continua evoluzione sul desiderio di fondere contemporaneità e tradizione elementi e stimoli che producono vibrazioni vitali che aiutano ad allargare la mente, ad aprirla spostando così il confine della fantasia che fa sentire vive le persone. è un progetto che ha alcune particolarità tra queste per esempio c'è il fatto che nasce grazie alle sponsorizzazioni delle ditte che lavorano sulla ricostruzione del territorio quindi si realizza quel connubio tra ricostruzione materiale e ricostruzione socio-culturale musica, grazie all'organizzazione dell'associazione Anima Ammersa Invece dal primo al 7 di agosto appuntamento a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata per la dodicesima edizione della Sagra del Maiale Per dare riscontro a questo nostro commercio che negli anni 50 i nostri avi avevano tutto cioè tutta la zona praticamente erano commercianti di maiali noi per dare alito a questa cosa qui abbiamo fatto la Sagra del Maiale dove noi con il ricavato della Sagra ogni anno cerchiamo di mettere qualche mattone qualcosa in più a questa chiesa, a questa contrada dal primo al 7 di agosto tutte le sere speriamo che vengano in tanti a onorare questa Sagra anche perché ogni anno vediamo che c'è sempre più affluenza vuol dire che la cosa è buona e la cosa patta bene serviremo un menù con tre diverse qualità di primo a partire dalla mezzemanica al sugo di pecorara polenta al sugo di pecorara gnocchi ripieni col sugo di pecorara in questo menù il menù completo sarà formato da oltre un primo anche un arrosto di maiale quindi una braciola, costatella e una salsiccia e dopo di che ci saranno anche accostate dei fritti sia delle olive che del formaggio fritto siamo arrivati alla dodicesima Sagra anche grazie a questi numeri speriamo di proseguire, anzi di incrementare apriamo ora la pagina dello sport i lavori di riqualificazione del manto erboso dello stadio Adriatico Cornacchia fanno saltare la presentazione del Pescara prevista per sabato prossimo 6 agosto l'amichevole col Celta Vigo e notizia di pochi minuti fa si disputerà allo stadio Patini di Cassel di Sangro alle ore 20 e 30 domani invece a Palena la quarta uscita stagionale del Delfino contro il Pineto Salta la presentazione del Pescara prevista per sabato 6 agosto allo stadio Adriatico Cornacchia i lavori di riqualificazione del manto erboso rendono impossibile la disputa dell'amichevole contro il Celta Vigo nell'impianto pescarese sarebbe stata l'occasione per presentare alla città la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A invece la partita si disputerà in un altro stadio il Patini di Cassel di Sangro domani la squadra farà la sua quarta uscita stagionale sempre a Palena alle 17 contro un'altra squadra di Serie D il Pineto dell'ex tecnico Aldo Ammazzadorso sul fronte mercato continua ad impazzare il toto attaccante con il tentativo del Pescara per Mario Balotelli che però in poco tempo ha ringraziato e declinato l'invito del Delfino per qualsivoglia trattativa e comunque la conferma che il Pescara cerca un nome importante per l'attacco un giocatore che possa fare la differenza ma che abbia bisogno di una piazza dove potersi rilanciare identikit che attiene ad esempio a Pablo Daniel Osvaldo la cui trattativa al momento è in stand-by ballano 200.000 euro tra domanda e offerta e sull'italo argentino si sono anche concentrate le attenzioni di altre società come il Palermo a caccia di un colpo a effetto ma comunque economico per il centrocampo si attende l'arrivo in Italia di David Pissarro giocatore che per Tecchi che in esperienza e leadership rappresenterebbe per Aldo un importante rinforzo a dispetto dei 37 anni su Verre invece potrebbe tornare la carica alla Sampdoria che cercherà di colmare il vuoto che sta lasciando Soriano destinato al Villareal con i soldi incassati dagli spagnoli i blucerchiati potrebbero dare l'assalto alla mezzala bianca azzurra il capitano Memusha invece ha trovato l'accordo per adeguare l'ingaggio e prolungare fino al 2020 il suo contratto col Delfino continuerà ad essere uno degli uomini guida del Pescara anche in Serie A per la difesa si fa in salita la strada che porta al centrale polacco del Lega Varsavia Michal Pasdan non ci sono particolari sviluppi sul fronte Norbert Ghiomber il difensore slovacco attualmente negli States per il tour di amichevoli della Roma Lega Pro dopo due settimane di duro lavoro è già tempo di calcio ufficiale per il Teramo che domani alle 17 allo stadio Moccagatta affronterà i padroni di casa dell'Alessandria per il primo turno di Team Cup partita secca chi vince sfiderà il turno successivo il Perugia tra i biancorossi sicuri assenti Speranza, Ilari e Forte ascoltiamo il bilancio dei primi giorni di lavoro del difensore Caidi e la presentazione della partita del tecnico Zauli Neville Caidi intanto prime impressioni dopo aver chiuso il ciclo a Ovindoli No, le impressioni sono positive da quello che ho percepito stiamo creando un grande gruppo un gruppo di ragazzi seri che hanno voglia di lavorare di migliorarsi quello penso che sia la base di tutto e poi è normale dobbiamo affinare ancora tante cose per quanto riguarda il campo dobbiamo migliorare fisicamente perché abbiamo lavorato tantissimo col prof però è normale che ci sia molto entusiasmo e molta voglia di fare bene Senti, finché non rientrerà il capitano di Masperanza sarai un po' il leader della difesa Sì, no, adesso io in questo momento non c'è però spero che torni il prima possibile perché è un giocatore importantissimo è normale io sono qua da sei anni sono un po' più grande lì di dietro quindi cerco di aiutare i ragazzi però sono ragazzi in gamba che è facile aiutarli perché sono ragazzi bravi, svegli quindi è più facile per me aiutarli Senti, ormai è un po' casa tua qui a Teramo è un legame forte a questo punto Sì, ormai qua sì, mi sento a casa quindi ho fatto la scelta di prolungare il mio contratto fino al 2019 quindi sono veramente contento di rimanere qua perché comunque mi sento veramente a casa Abbattuta sull'Alessandria squadra grandi firme allestita per fare grandi cose in campionato sarà il primo test cosa aspettarsi da questa partita? Beh, intanto andiamo là per vincere perché c'è un passaggio di turno c'è una partita importante da poter andare a conquistarsi il 7 agosto a Perugia quindi sicuramente vogliamo andare a crescere a fare una bella partita pur sapendo che è il 31 luglio che quindi difficilmente si vedono partite ufficiali soprattutto nelle nostre categorie del 31 luglio noi abbiamo fatto la scelta di mandare avanti la nostra preparazione atletica non sicuramente per la partita del 31 luglio ma bensì per il 28 agosto quindi sarà una partita molto importante perché è la prima volta che giocheremo in maniera ufficiale contro come ho detto precedentemente penso una delle migliori squadre allestite per vincere il campionato del Lega Pro e quindi sarà una bella giornata Proseguono le iniziative per incentivare la raccolta di fondi tra i tifosi lunedì sera a Lanciano in piazza Plebiscito è stata organizzata una festa con esibizione di gruppi musicali intanto arrivano altri video messaggi di ex giocatori rossoneri Il tempo stringe dentro metà della prossima settimana a Lanciano dovranno uscire fuori quei 300 mila euro per permettere alla Prolanciano la società istituita e affiliata da Donato Di Campli di potersi iscrivere al campionato di Serie D Molto passa per il lavoro del sindaco Pupillo impegnato nel trovare almeno un imprenditore che possa investire le risorse necessarie allo scopo ma i tifosi non sono rimasti a guardare e le iniziative non mancano soprattutto nell'ottica dell'azionariato popolare la raccolta di soldi tra i tifosi che cercano di dare il loro contributo economico per evitare la scomparsa del calcio nel centro frentano dopo l'accensione del conto rossonero un'altra raccolta è stata promossa e sarà possibile fino a domani sui banchetti dislocati sul corso Trento e Trieste dalle 18 alle 20 e 30 lunedì sera in piazza Plebiscito ci sarà una festa con lo svolgimento di spettacoli musicali sempre col fine di incentivare il reperimento di risorse un tentativo estremo per il quale tanti sostenitori rosso-blu si stanno prodigando come stanno facendo ex giocatori rossoneri dopo quelli già ascoltati di Leonardo Pavoletti e Carlo Mamarella ecco i messaggi postati sui social da Antonio Piccolo e Federico Di Francesco ciao a tutti so che è un momento difficile per Lanciano ma è proprio in questi momenti che bisogna stare tutti uniti contribuisci insieme a me affinché Lanciano possa ritrovare il suo splendore e possa tornare a calcio che gli compete un abbraccio a tutti ciao a tutti come hanno fatto i miei scompagni da Virtus Lanciano voglio fare un appello a tutti i lancianesi affinché Lanciano possa tornare nelle categorie che meriti un abbraccio a tutti voi Serie D il San Nicolò ha iniziato lunedì scorso il ritiro precampionato a Castel del Monte per il tecnico Massimo Epifani sarà la quarta stagione consecutiva sulla panchina della compagine Terramana con l'obiettivo di continuare a migliorarsi Massimo Epifani San Nicolò al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie D una stagione importante tante abruzzesi tante squadre che partono con i favori del pronostico il San Nicolò a proposito di pronostici cosa cercherà di fare la prossima stagione San Nicolò cercherà di fare non bene benissimo perché abbiamo allistito secondo me una squadra importante una squadra con giocatori forti e cercheremo di fare quello che abbiamo fatto gli altri anni sicuramente con puntare un po' più in alto di quello che abbiamo fatto specialmente nell'ultimo anno quello prossimo sarà un campionato duro probabilmente più difficile di quello della passata stagione diverse corazzate cercheranno di accaparrarsi questo primo posto è un campionato difficile ma questo è il terzo anno che lo facciamo e credo che un pochettino di esperienza ormai ce l'abbiamo è un campionato vero e proprio professionistico anche se direttantistico e quindi ci prepariamo a un'annata difficile sicuramente ci faremo trovare pronti stiamo lavorando stiamo lavorando cercando di trovare il prima possibile la strada giusta perché cambiando tantissimo bisogna lavorare farsi trovare il 4 settembre pronti avete però lavorato bene sul mercato manca ancora qualcosa probabilmente forse un fuori quota però abbiamo fatto un grande lavoro con il direttore Mitchell è stato sempre attento su tutto abbiamo fatto la squadra che volevamo abbiamo preso i giocatori che volevamo quindi siamo pronti per questo anno adesso bisogna solo lavorare e farsi trovare pronte perché sarà un campionato terribile dove ci sono squadre che come l'Aquila come squadra come Fermana come Mater che hanno fatto squadre per vincere il campionato io ho sempre detto che per quanto riguarda la Serie D ho dato sempre la priorità al San Nicolò perché è una società dove mi trovo bene e dove si lavora molto bene ho avuto possibilità di andare in Lega Pro e alla fine sono saltate per piccole cose però sicuramente non sono rimasto come ripiego ma perché voglio fare bene voglio cercare di arrivare il più in alto possibile finisce qui la prima edizione del TG6 le prossime alle ore 19 e alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata e buon proseguimento